buonasera a tutti e bentornati su parresia oggi parliamo di storia dell'editoria e di due stampatori del quindicesimo sedicesimo secolo operanti tra firenze e venezia sapete non si sa mai magari il ministro dell'istruzione ad un concorso a quiz per la docenza vi potrebbe porre qualche quesito in merito ne parliamo presentando il libro inventare i libri l'avventura di filippo luca antonio giunti pionieri dell'editoria moderna e ti guarda caso per i tipi giunti quest'anno 2022 ne parliamo ovviamente con l'autore di questo volume ma prima di passare la nostra intervista vi ricordo come sempre di mettere like al video iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i giornalmente sui nostri prossimi video è per noi un grande piacere avere come ospite uno storico scrittore e divulgatore tra i più grandi e virali del web un nome una garanzia abbiamo qui con noi il sommo professor alessandro barbero che saluto calorosamente buongiorno a tutti non esageriamo naturalmente comunque grazie di questa presentazione è tutto meritato partiamo direi con una domanda un po banalotta l'argomento se posso darti del tu di cui tratti di fatto come detto in precedenza parliamo di storia dell'editoria è stato per te noioso o appassionante specialmente perché la domanda è particolarmente azzeccata perché anche se tu non potevi saperlo io per molto tempo ho classificato il tema dell'invenzione della stampa e dei primi stampatori fra i temi mortalmente noiosi di cui non avevo la minima intenzione di occuparmi in vita mia tutti quanti abbiamo la nostra classifica personale delle cose che ci appassionano e delle cose che ci appallano e io ho sempre considerato il tema della stampa come un tema mortalmente noioso forse anche perché io sono un medievista e bene o male l'invenzione della stampa come quell'altro tema noiosissimo che sono la riforma e la controriforma fa parte insomma di ciò che mette fine al medioevo e apre un'epoca diversa ma al di là dello scherzo avevo questo pregiudizio invece è divertentissimo invece è follemente divertente grazie alle fonti di cui disponiamo perché naturalmente nel nostro lavoro come dire tutto dall'inizio alla fine sta nelle fonti se hai delle fonti su cui è divertente lavorare perché rispondono alle tue domande soddisfano le tue curiosità e le voglie e le tue libidini e ti fanno venire voglia di saperne ancora di più allora allora ti diverti e in effetti l'editoria fiorentina grazie alle meravigliose fonti fiorentine è interessantissima e poi in generale devo dire è anche molto appassionante lavorare su questo tema oggi oggi che disponiamo della rete e quindi di meravigliosi cataloghi online degli incunaboli delle cinquecentine voglio dire che è possibile dedicare come ho fatto io un pezzetto della propria vita di studiosi a questo argomento e impadronirsene quando una volta per impadronirti di questo argomento ci dovevi per forza di cose dedicare tutta la vita bene grazie mille molto onesto da parte tua e direi di passare con un salto direttamente proprio al fulcro del tuo libro parliamo delle avventure dei fratelli giunti filippo e luca antonio questi due fratelli o meglio le storie questi due fratelli sembrano le storie di due self made man di due tycoon come li chiami tu stesso anche all'interno del tuo libro del 4500 ecco potresti approfondire la creazione dei due rami fiorentino e veneziano dei giunti specialmente l'impatto tra virgolette imprenditoriale che ebbero a quell'epoca che sono dei self made man lo possiamo sapere appunto grazie alle meravigliose fonti fiorentine di cui ti parlavo e su cui forse vale la pena di spendere due parole di più la fonte veramente cruciale in questo senso sono i catasti voi sapete che nel 1427 per la prima volta la repubblica fiorentina ha deciso di creare il catasto dei contribuenti quindi raccogliendo informazioni dettagliatissime da ogni abitante della città sulla sua famiglia moglie figli nomi età casa di abitazione se di proprietà o in affitto attività affari crediti debiti proprietà e così via e il grande catasto su cui molti anni fa due precursori come david e christian clapish hanno scritto un grande libro questo catasto ovviamente sarà stato vissuto dai cittadini fiorentini come una catastrofe come una scocciatura gigantesca di cui avrebbero fatto molto volentieri a meno come spesso succede le scartoffie prodotte dagli stati burocratici sono una sciagura per i loro cittadini ma sono una manna per gli storici che vengono dopo la manna consiste non solo nell'invenzione del catastro nel 1427 ma nel fatto che poi è stato aggiornato e rifatto continuamente ogni pochi anni e questi volumi sono in grandissima maggior parte conservati fino ad oggi questo significa che se uno ha pazienza anche una famiglia di gente qualunque come era la famiglia dei nostri uno la può ritrovare e seguire sull'arco degli anni dei decenni e delle generazioni e per questo che io sono in grado di dire che appunto mentre i nomi di Filippo e Luca Antonio Giunti sono famosi negli annali della stampa da sempre come quelli di due grandi imprenditori non era così chiaro che erano figli di una di una brava persona ma di un poveretto in realtà erano figli di uno che abitava in periferia di uno che si è arrabbattato tutta la vita coltivando un po' di terra avviando ogni tanto un tentativo di piccolo commercio con qualche fiorino preso a credito erano dei clienti della grande famiglia patrizia dei vettori e questo viene fuori anche dagli archivi quando c'era bisogno ci facevano prestare qualcosa da loro tentano di avviare un piccolo commercio poi però falliscono uno zio farà il contadino per tutta la vita a un certo momento il papà riesce a comprare la casetta di periferia in cui abitano ed è ed è un grande momento per la famiglia e poi via via appunto uno vede nascere questi ragazzi questi ragazzi questi bambini li vede crescere li vede adolescenti e poi è un bel momento il papà muore e il fratello maggiore rimasto a firenze rilascia la dichiarazione a nome di tutti e ti dice luca antonio luca antonio a venezia e a venezia al cartoraio cioè a lavorare da un cartolaio come dicevano loro uno che si occupa di carta perché la categoria merceologica fiorentina era questa occuparsi di carta carta e quindi anche pergamena anche se la pergamena un po fuori moda ma è sempre quello e ti occupi di carta certo ma carta stampata o carta bianca e che differenza c'è il cartolaio il cartolaio è una categoria di imprenditi piccoli artigiani anzi e commercianti vendono carta la vendono bianca e la vendono già scritta va bene lo stesso vendono i manoscritti e vuoi che c'è la stampa vendono anche i libri stampati e sempre il cartolaio o meglio il cartoraio come scrive la dichiarazione dei redditi del fratello di luca antonio sta al cartoraio a venezia e non so quanto sabbi di salare perché è chiaro che non so quanto abbia di salario cioè perché ovviamente all'epoca uno che è andato a venezia un conto è se sei pier vettori sei un aristocratico puoi mandare un corriere a venezia ogni volta che ti viene voglia di avere notizie ma se sei una persona qualunque il fratello è andato a venezia per anni non lo senti più costa scrivere le lettere quindi non lo senti più e non sai e l'altro fratello filippo sta a bottega dal pollaiuolo quindi sta a bottega da un pittore sì pittore ma attenzione anche orafo e qui c'è il punto noi non sappiamo cosa ha fatto scattare in testa questi ragazzi che erano fratelli minori per l'appunto i loro fratelli maggiori hanno continuato tutta la vita a essere povera gente tutto sommato questi due si sono avviati su un mercato che evidentemente hanno intuito che poteva rendere o dove comunque ci si riusciva a sistemare filippo ci è arrivato chiaramente perché a bottega dal pollaiuolo invece di imparare a dipingere gli affreschi ha imparato a fabbricare gioiellini e anche quindi quei gioiellini che sono i caratteri di stampa non dimentichiamoci che anche gutenberg era orefice è un nesso che magari a prima vista non c'è così naturale ma invece è del tutto ovvio il trucco sta nell'essere capaci di fabbricare i caratteri di stampa e così si avviano appunto a questo percorso e noi li seguiamo lucantonio con più fatica perché le fonti veneziane bellissime per altri versi sono però meno ricche dal punto di vista proprio di ricognizioni catastali che ti permettano di seguire l'evoluzione di una famiglia di vedere dove abita la gente eccetera a firenze invece filippo lo possiamo seguire molto bene e poi c'è anche quell'altro fondo che a quel punto subentra e cioè l'archivio dei monaci della badia della badia fiorentina perché filippo è affettuario dei monaci della badia che possedevano mezzo quartiere nella zona dei cartolai per l'appunto e quindi vediamo quando allarga la bottega quando soppalca quando mura quando ne prende in affitto un'altra e raddoppia lo spazio e così via possiamo proprio seguire l'evoluzione della bottega per lucantonio questo a venezia è più difficile farlo però poi di entrambi seguiamo l'evoluzione della loro produzione ed è qui che si vede la divaricazione delle loro vocazioni notate che loro sono soci sono soci in una società in cui però è chiaro fin dall'inizio che luca antonio che è il più giovane dei due però stando a venezia ci mette più soldi e ha una quota maggiore dei profitti e questo appunto è la divaricazione in realtà uno solo dei due diventa un tycoon un magnate un ricchissimo ricco forse anche ricchissimo ma di certo ricco imprenditore ed è luca antonio venezia filippo a firenze è un imprenditore di successo ma moderatamente agiato rispetto al fratellino veneziano e questo dipende dalle diverse scelte produttive dalle diverse scelte di mercato perché luca antonio che intanto capiamoci è chiaro che tutti e due hanno deciso a un certo punto il nostro ambito è la stampa filippo a firenze è iscritto appunto alla corporazione a cui appartengono i cartolai ma lui appena comincia a stampare qualcosa chiama se stesso nei colofon dei volumi bibliopola e quindi libraio è chiaro che lui percepisce anche il fascino intellettuale di questa cosa produrre e vendere libri non soltanto carta ecco bianca oppure stampata chi se ne frega no no libri ci tiene c'è anche una venatura umanistica ma luca antonio invece che è andato a venezia è andato a venezia perché chi ha era chiaro a tutti che in quel ramo lì la potenza stava a venezia a firenze si stampa ma a venezia si stampa dieci volte di più da firenze c'è un mercato ma a venezia hai accesso a un mercato molto più grande internazionale oltretutto il mercato fiorentino non è internazionale firenze è lontana mentre venezia è lì venezia è un passo dalla strada del brennero è a diretto contatto con l'europa con l'europa centrale no ecco e luca antonio a venezia va non per svolgere un'attività intellettuale frequentare gli umanisti pubblicare belle edizioni dei classici che sono tutte cose che filippo a firenze fa magari all'inizio semplicemente perché il mercato che ha trovato è quello però poi si vede anche che ci si appassiona si vede che filippo a firenze frequenta gli umanisti i quali lo ricambieranno ricordandosi di lui come emerge dalle loro corrispondenze come di un asino però però il povero filippo invece ci crede ogni tanto fa delle prefazioni ai suoi volumi o se le fa scrivere da qualcun altro come dicevano avrà un figlio bernardo che è un vero intellettuale in realtà pur continuando a fare lo stampatore e continuando a essere disprezzato dagli autori che stampa perché è meraviglioso vedere come già a quell'epoca ci sia questo atteggiamento per cui gli editori si lamentano che gli autori sono capricciosi cambiano continuamente idea non sono mai d'accordo non sono mai contenti sono difficilissimi da gestire e gli autori sono convinti che gli editori sono degli ignoranti pensano solo ai soldi non capiscono niente dover discutere con loro è una cosa che ti abbassa ecco identico anche che succede oggi dopodiché dopo di che invece luca antonio a venezia non l'ho ancora detto ma il punto cruciale è questo non stampa mica i poeti o i classici quello c'è aldo manuzio che lo fa e poi ne parleremo ma luca antonio a venezia individua il mercato più redditizio che ci sia libri di chiesa messali antifonari tutta una produzione di libri rivolti a quel grandioso cliente che era il clero pensiamo alla chiesa di fine quattrocento di inizio cinquecento un'organizzazione internazionale gigantesca multinazionale non ancora spaccata dalla riforma protestante per cui è un unico mercato che arriva fino in scandinavia volendo arriva in ungheria arriva in spagna d'accordo un mercato immenso perché il clero ha un gigantesco bisogno di libri sono libri che a noi oggi non fanno fremere di emozione uno freme di emozione vedendo dante alighieri pubblicato da filippo non freme di emozione vedendo i messali pubblicati da luca antonio se non per l'apprezzamento puramente estetico perché possono essere libri bellissimi possono essere libri esteticamente bellissimi per la stampa se sono bibbie anche per le miniature ma è chiaro che il loro interesse intellettuale per noi arriva fino a un certo punto ecco non è che dentro ci scopri chissà cosa però era un mercato formidabile erano libri costosi commissionati da committenti che li ordinavano all'ingrosso capisci ti arriva un vesco il messaggero di un vescovo ungherese che vuole un'intera serie di messali per tutta la sua diocesi uno per ogni chiesa e tu stampi le tue centinaia di copie già vendute prima di stamparle perché quello il punto pubblichi su commissione e quindi il mercato veneziano arricchisce luca antonio senza far di lui una figura intellettuale importante mentre il mercato fiorentino fa diventare filippo giunti una figura tutto sommato minore ma significativa anche della vita intellettuale ma non lo arricchisce più di tanto bene adesso parliamo del fiorentino filippo giunti ebbe dei rapporti con savonarola e soprattutto vi furono delle frizioni tra lui e savonarola durante il governo dei piagnoni a firenze guarda noi questo lo possiamo provare a indovinare voglio dire che non abbiamo indicazioni sicure su questo anche perché al tempo del savonarola l'avventura editoriale di filippo è ancora abbastanza agli inizi e quindi lui non è ancora una figura così conosciuta per cui posso figurare per esempio nella corrispondenza degli intellettuali e così via come invece succederà un po più tardi però qualche indizio c'è e devo dire già buon senso se uno dovesse dire non ho informazioni ma tiro a indovinare allora sembra abbastanza chiaro che filippo non poteva avere grandi simpatie per savonarola perché filippo è impegnato nel ramo della pubblicazione dei classici nella pubblicazione dei classici latini e greci quindi dei libri pagani e quindi precisamente di quelle cose che savonarola faceva bruciare in piazza perché naturalmente appunto savonarola è una figura della nostra storia del nostro passato ha fatto anche una brutta fine quindi può anche passare per un martire è una figura interessantissima e affascinantissima ma era un talebano naturalmente era uno che allestiva i roghi in piazza e la gente veniva a portare a bruciare gli strumenti musicali a bruciare i disegni di donne nude a bruciare gli spartiti e a bruciare i classici ecco ora noi se uno va a vedere un po di cronologia perché apro questa piccola parentesi che magari rende più interessante la risposta una delle cose che è possibile fare studiando questi editori è la cronologia precisa delle loro edizioni cioè sapere quando è che loro hanno messo sul mercato una certa opera perché sono datati tutti i volumi sono datati naturalmente bisogna stare attenti perché ci sono delle trappole anche lì c'è fior di trappole a partire dal fatto banalissimo che bisogna ricordarsi che l'anno a Firenze e a Venezia cominciava il 25 marzo e non cominciava il primo gennaio perché altrimenti si rischia di prendere delle cantonate meravigliose ma al di là di quello poi naturalmente bisogna anche stare attenti perché loro stampavano ma poi se il lavoro aveva successo lo ristampavano e non sempre aggiornavano la data oppure la aggiornavano ma non aggiornavano il contenuto ci sono volumi stampati con meravigliose dediche a personaggi che sono già morti alla data in cui il libro viene stampato ma se uno legge solo la dedica introduttiva non lo vede che sono già morti perché hanno ristampato tale quale l'edizione precedente quando invece il libro non andava tanto bene a volte ristampavano il frontespizio sapete che li vendevano non rilegati quindi era facilissimo ristampare la prima pagina no e ristampavano il frontespizio mettendo una data nuova per far credere che era un'opera nuova e sperare di avere un po più di successo sul mercato quindi nello stabilire questa cronologia delle opere c'è tutta una serie di trappole a cui bisogna fare attenzione detto questo però sembra proprio che Filippo abbia deciso di provare a pubblicare per la prima volta testi greci proprio nell'epoca in cui Savonarola impazzava a Firenze e questo se tanto mi dà tanto era per carità poteva anche essere una cosa che poteva diventare pericolosa se le cose fossero andate in un altro modo e se Savonarola invece di essere schiacciato invece fosse rimasto al potere per un po di tempo quindi io mi sento di dire che effettivamente Filippo faceva parte di quel mondo che che non poteva capire apprezzare il Savonarola e le sue proposte ecco bene adesso parliamo del giunti veneziano di Luca Antonio i suoi rapporti con Manuzio cosa scatenò diciamo le tensioni tra i due e come risolse i loro rapporti questa è tutta una storia da ricostruire per indizi anche qua perché a dire la verità noi non abbiamo testimonianze dirette di conflitti c'è uno studioso che a suo tempo ha creduto di individuare in un certo processo una causa mossa dai giunti contro Manuzio o viceversa adesso mi ricordo neanche più talmente complicata la cosa ma soprattutto il punto è che non è vero ecco andando a vedere bene i personaggi coinvolti in quella causa non erano quelli lì quindi il problema non è tanto di un'ostilità personale o di conflitti specifici e anzi va detto che alla generazione successiva il figlio di Aldo Manuzio sarà in ottimi rapporti con il figlio di Luca Antonio quindi dal punto di vista personale non c'erano particolari problemi il problema è il mercato ed è una storia istruttiva se uno va a vedere per induzione ripeto sempre sulla base dei libri che loro pubblicavano quello che uno l'impressione che io ho ricavato è questa Luca Antonio sta a Venezia e pubblica appunto soprattutto i suoi libri per la chiesa e fa un sacco di soldi Aldo a Venezia comincia a pubblicare i suoi nuovi libri la sua geniale invenzione del tascabile che costa poco e perché il libro a stampa costa sempre poco rispetto ai manoscritti di prima però comunque si tratta sempre di libri piuttosto costosi e c'è veramente lo stesso rapporto che c'è oggi fra un importante libro rilegato scientifico e il tascabile che compri in edicola Aldo inventa il tascabile e lo inventa però per un mercato di intellettuali raffinati non sono i gialli da quattro soldi diciamo ecco e non sono libri di barzellette i gialli non c'erano i libri di barzellette sì favolette oppure libri di preghiera da quattro soldi no Aldo fa libri per gli intellettuali e quindi fa i classici e i grandi poeti moderni fa la commedia di Dante inventandosi quella cosa stranissima di intitolarlo le terze rime di Dante anziché chiamarlo la commedia proposta che non è stata come sappiamo poi approvata dalla collettività accademica Aldo quindi fa libri raffinatissimi per intellettuali riproponendo i grandi scrittori contemporanei e i classici latini e greci intascabile è un'idea completamente nuova e ha successo non forse al punto di creare un gigantesco mercato però comunque ha successo sul mercato quel prodotto c'è allora Luca Antonio poteva mettersi a farli anche lui conoscendo Luca Antonio quello che noi vediamo è che Luca Antonio anche Filippo è ma Luca Antonio ancora di più è davvero un mercante di quell'epoca e cioè un uomo che può avere un suo ramo in cui è particolarmente specializzato e l'ho detto ma che al tempo stesso tiene d'occhio qualunque affare che possa capitare questo è veramente tipico del mercante del basso medioevo il quale fa qualunque si ha dei soldi da investire investe in qualunque affare che gli possa capitare sotto mano poi ogni mercante avrà una sua attività principale c'è chi si occupa di tessuti c'è chi si occupa di spezie ma collateralmente si mettono le mani in pasta in tutti gli affari che possono capitare quindi noi dobbiamo immaginare che Luca Antonio vedendo il successo di Aldo si sia potuto dire ma li farei volentieri anch'io ma non poteva e non poteva perché a Venezia Aldo avendo delle protezioni aveva ottenuto il privilegio voi sapete cosa vuol dire il privilegio per chi ci ascolta voi sapete che all'epoca il copyright non esisteva in linea di massima nessuno impediva un editore di dire ma guarda che bel libro che ha pubblicato il professor Barbero adesso lo stampo anch'io e non gli do neanche un soldo naturalmente era del tutto normale tant'è vero che uno degli aspetti divertenti di quel mondo è che si vedono continuamente appunto i sospetti dell'editore che sta preparando un'opera con cui pensa di sfondare sul mercato e ha paura che i suoi concorrenti lo vengano a sapere all'ossessione che i suoi concorrenti come dire corrompano i suoi stessi operai per impadronirsi del manoscritto e pubblicarlo prima di lui loro vivono in questo mondo qual è l'unica difesa la difesa è rivolgersi al governo e devi essere raccomandato ovviamente e arrivare a ottenere dal governo un'ordinanza un editto che stabilisce che solo tu puoi fare quel libro o quel certo tipo di libri a Venezia Aldo ha il privilegio governativo per cui solo lui può pubblicare quei classici intascabili con quel formato e con quel tipo di caratteri qual è il problema che tutto questo funziona a Venezia ma a Firenze se ne possono fregare del tutto perché a Firenze non importa niente a nessuno delle leggi di Venezia né a Firenze né a Roma né a Lipsia naturalmente ecco e allora quando noi vediamo che pochissimo tempo dopo che Aldo ha messo sul mercato i suoi classici tascabili a Firenze Filippo mette sul mercato i suoi classici tascabili che per tanto tempo sono stati considerati dagli studiosi addirittura una spudorata imitazione di quelli di Aldo Manuzio adesso oggi c'è un atteggiamento un po' più cauto un po' più rispettoso anche nei confronti di Filippo e delle edizioni giuntine però per molto tempo si è proprio detto ma questo li ha copiati tali quali e in parte rimane anche vero vero che Filippo faceva fare un lavoro agli umanisti faceva fare prefazioni e tutto quanto però è chiaro che va un po' a rimorchio di Aldo e quindi sembra ovvio a questo punto dedurre ripeto non è una certezza è una nostra deduzione che a Venezia Locantonio si è reso conto che c'era un settore di mercato in cui avremmo anche potuto mettere le mani anche noi giunti però io a Venezia non lo posso fare ma te Filippo a Firenze lo puoi fare sì e quindi e quindi fallo tu censura indici dei libri proibiti come impattarono sul lavoro dei giunti soprattutto a Venezia che era una grande capitale della stampa europea questo è un altro tema molto interessante mi smentisco ovviamente ho detto prima che non c'è niente di più noioso della riforma e della controriforma non è del tutto vero naturalmente non rientra fra le passioni di un medievista come argomento ma ovviamente invece è un se uno ci mette le mani dentro è un momento straordinario nel contesto della controriforma io mi sono appunto imbattuto in questo problema nel momento in cui ho provato a seguire un po' le avventure anche del figlio di Lucantonio Tommaso Lucantonio opera fino verso la metà del del Cinquecento e quindi siamo in piena controriforma ormai Tommaso ho detto Lucantonio volevo dire Tommagino in caso Tommaso opera fino alla metà del Cinquecento è un fiorentino conosciuto come fiorentino quando nel 1530 c'è l'assedio di Firenze la grande ribellione di Firenze l'ultimo tentativo di salvare il comune la repubblica a Firenze contro i medici da Firenze vengono a Venezia a chiedere soldi agli imprenditori fiorentini che operano a Venezia e uno dei cinque o sei grandi imprenditori fiorentini che operano a Venezia è Tommaso Tommaso Giunti il quale rifiuta di dare dei soldi dicendo che in quel momento lui non ne ha non può permettersi di investire gli dispiace tanto poi quando verranno i medici il granduca Cosimo cercherà di farsi prestare dei soldi da Tommaso Tommaso non glieli darà neanche al granduca dicendo che lui in realtà si si il babbo era fiorentino ma lui è veneziano non ha attenzione paga le tasse a Venezia ecco questo è il personaggio per capirci che peraltro ricorre continuamente nella corrispondenza di grandi umanisti come il Bembo e ricorre anche con un certo rispetto ecco questa figura di Tommaso il quale non sarà un grande intellettuale nel 1530 al tempo dell'assedio gli umanisti fiorentini e i politici fiorentini quando lui rifiuta di dare i soldi dicono delle cattiverie tremende su di lui che appunto è un arricchito però non è che sia un uomo d'onore perché appunto non fa un'attività intellettualmente degna stampa materiale di consumo fondamentalmente ecco però però Tommaso che è uno dei leader degli stampatori veneziani è una figura di primissimo piano nel mondo degli stampatori veneziani si trova a dover scegliere cosa fare nel momento in cui fra gli stampatori si diffonde il malessere per il nuovo atteggiamento repressivo che la chiesa sta via via adottando e in particolare quando si comincia a parlare dell'indice dei libri proibiti gli stampatori veneziani gli stampatori veneziani fanno una cosa che appunto sarebbe bellissimo pensare che fossero colpiti anche dal fatto che era una censura illiberale che era una chiusura intellettuale proibire dei libri e chi lo sa se non avevano anche questo in mente certo quello che vanno a dire al doge e al senato e che questa è una rovina per gli affari perché chiaramente al doge al senato è questo che bisogna dire che queste cose che la chiesa vuole fare danneggiano l'economia veneziana e siccome noi sappiamo che venezia ha sempre per quanto poteva difeso la propria autonomia anche nei confronti della chiesa dell'inqui mettendo i bastoni fra le ruote all'inquisizione e così via e allora queste proteste degli stampatori veneziani un qualche spazio ce l'hanno per cui in realtà se uno volesse andare ad approfondirla io l'ho appena accennata questa storia perché appunto come vi dicevo siamo già alla generazione successiva rispetto a quella che ho studiato io e siamo in un mondo che è ormai troppo diverso rispetto a quello medievale che conosco io. Luca Antonio e Filippo sono nati nella Firenze di Lorenzo il Magnifico dove fondamentalmente un medievista si ritrova ancora in un mondo dove i problemi sono quelli a cui siamo abituati. Nella Venezia del 1550 i problemi sono in parte ormai diversi quindi io non l'ho approfondito ma se uno lo volesse approfondire è molto interessante vedere questo gioco difficile delicato che conducono Tommaso Giunti e gli altri librai veneziani per cercare di convincere al governo il governo veneziano che è nell'interesse di Venezia non applicare troppo rigidamente queste nuove regole che la Chiesa da Roma si sta sforzando di imporre. il successo non è mai non è definitivo naturalmente però va anche detto che noi sappiamo benissimo che l'indice come dire non ha distrutto la circolazione dei libri proibiti non ha impedito che certi libri circolassero comunque e quindi non è tanto una storia di chi ha vinto e chi ha perso quanto quella di un conflitto aperto nelle cui prime fasi appunto Tommaso il figlio di Luca Antonio è stato coinvolto in prima persona facendo ai nostri occhi di contemporanei una figura migliore di quella che ha fatto quando appunto si rifiutava di dare i soldi a Firenze assediata o in altre occasioni del genere. Bene grazie Alessandro il tuo testo è ovviamente gradevolissimo alla lettura anzi vi consigliamo ovviamente di leggerlo sei uno se non l'unico tra gli storici professionisti che riesce a comunicare al grande pubblico facendolo appassionare. L'operazione ovviamente con questo libro ci sembra riuscita ancora una volta insomma per concludere questa intervista dice Alessandro qual è il tuo segreto no perché noi vorremmo essere non come te però almeno avvicinarci un pochino. Temo. Grazie. No allora io vi posso dire una cosa sola io non so niente del perché mi riesce bene parlare in pubblico né è una cosa che io abbia sempre portato con me io ero un ragazzino assolutamente imbranato e nel privato sono tuttora una persona che parla poco che in compagnia non di solito sta zitta e così via perché mi riesca di parlare davanti a un pubblico di farmi seguire non mi sono mai chiesto più di tanto perché l'ho scoperto con sorpresa a un certo punto. Da quello che mi dicono mi sembra di capire che molti danno particolare importanza appunto al fatto che io la passione che provo la tiro fuori. Come sappiamo tutti ogni studioso ha una passione dentro poi per carità per molti la passione con gli anni con l'abitudine col clima intorno con l'enorme fatica di lavorare oggi nella nostra università con l'immensa burocrazia le infinite perdite di tempo le idiozie che ci circondano da ogni parte la passione magari diminuisce anche molto col tempo da dedicare alla ricerca che sparisce perché devi fare essere membro di commissioni o compilare scartoffie e lo sappiamo tutti magari la passione diminuisce però sappiamo anche tutti che almeno all'inizio ogni studioso di qualunque materia ha una passione che lo ha spinto a dire questa è la cosa a cui voglio dedicare la mia vita ecco semplicemente la grande maggioranza dei colleghi la mia impressione è che questa passione la reprima un po' nel contatto con l'esterno non la faccia vedere non sia abbastanza spudorato abbastanza esibizionista da farla vedere e invece ragazzi bisogna farla vedere a partire da quando facciamo lezione ai nostri studenti e per continuare quando ci chiamano a parlare davanti a un pubblico di un altro tipo bisogna far vedere che a noi le cose di cui ci occupiamo ci bruciano dentro e ci appassionano e ci fanno brillare gli occhi e se lo fai vedere secondo me sei già sulla buona strada per comunicarla quella passione e farla capire ecco questa è l'unica cosa che mi sento di dire perché mi è stato detto più volte e più volte e quindi come me l'hanno detto così la trasmetto a voi grazie mille alessandro è stato veramente ispirante anzi come direbbe fantozzi 92 minuti di applausi comunque concludendo insomma questa intervista io ti ringrazio veramente tanto ringrazio anche daniele santarelli che accompagnato me in questa intervista noi ci vediamo a un prossimo video ancora qui su paresia